La generazione a cui appartengo è cresciuta senza mai trovarsi davanti ad un confine chiuso. Non dobbiamo chiedere il permesso di viaggiare e non abbiamo bisogno di visti. Siamo cittadini europei, la migliore condizione al mondo. Per molti giovani che vorrebbero venire in Europa, invece, non esiste un progetto Erasmus. Chi di loro riesce a mettere piede nella fortezza europea non solo non si vede riconosciuto alcun titolo di studio, ma spesso nemmeno i diritti umani. Le carte fondanti dell'integrazione europea riconoscono a ogni essere umano i propri diritti, ma questi nella realtà sono sempre meno rispettati. Le garanzie e il dutele, a vantaggio dei più deboli, vengono progressivamente eliminate. I migranti e le migranti vengono separati in cattivi e buoni, economici e rifugiati. Sulla base di criteri arbitrari si decide chi abbia o meno il diritto di stare nel nostro Paese. Si sceglie di colpire chi migra e non chi sfrutta come forza lavoro a basso costo queste persone, costrette alla clandestinità. Il nostro governo sceglie di colpire le organizzazioni non governative che nel Mediterraneo salvano vite umane e non le organizzazioni criminali che su quelle vite costruiscono il loro profitto. Noi, invece, sosteniamo le comunità che ogni giorno scegliono di stare dalla parte dei migranti e delle migranti, creando spazi di solidarietà, come la comunità di Riace, come le esperienze del Baobab di Roma o quella del rifugio C'è Gesù a Clavier. Noi sosteniamo le comunità che ogni giorno lottano per i propri territori, come il Movimento Notav in Val Susa, che ha una frontiera chiusa e invalicabile per chi migra, ma aperta ad una grande opera inutile e dannosa come il Tav. Con il Decreto Sicurezza e Migrazione dell'attuale governo, in linea con la legge Orlando Minniti, l'abolizione della protezione umanitaria e il ristringimento delle procedure di accoglienza aumenteranno le aree di clandestinità funzionali allo sfruttamento degli migranti e delle migranti. Questi saranno rinchiusi ancora più a lungo in spazi dove le tutele e i diritti umani sono sistematicamente violati. Per questi motivi, e anche sulla base dei rilievi di costituzionalità formulati nel Consiglio Superiore della Magistratura da lì presiduto, le chiedo, a nome della comunità studentesca che io qui rappresento, signor Presidente, di non firmare il Decreto Legge Sicurezza e Migrazione, che non ignori svantaggi sociali ed economici, ma li combatta. Lottiamo per un'università adeguatamente finanziata, che non si regga, come oggi, sul lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici precarie. Vogliamo un'università che garantisca una didattica e una ricerca indipendenti, luogo di pensiero critico e di studio delle contraddizioni del reale. I valori dell'università per cui lottiamo sono quelli che vorremmo vedere anche in Europa. Vogliamo un'università militante, antifascista, antirazzista e antisessista. Vogliamo un'Europa aperta, solidale, giusta ed inclusiva. Grazie. Grazie a tutti.